Eni lo sta già facendo, in tutto il mondo, con l'energia della ricerca, della tecnologia, del rispetto per l'ambiente. Questo è il gruppo Eni, questo è lo sviluppo sostenibile. Vivere sulla terra, pensando a chi verrà dopo di noi. Cresceremo su questo pianeta. Le sorgenti giapponesi sono ricche di oligominerali, preziosi bioelementi indispensabili all'equilibrio cellulare della pelle. Oggi, questi bioelementi naturali sono racchiusi in Bionsen, una linea di integratori minerali per l'igiene del corpo che rispetta l'idratazione fisiologica della pelle. Bionsen, la tua sorgente dermoprotettiva. Per riprendere un campione come Carly Lewis, dovreste avere una mano fermissima e correre veloci come lui. Ma vi basta avere in mano la nuova Palmcorder S7 Panasonic. Con il più avanzato stabilizzatore d'immagine, il più potente zoom 16x... Zoom! I like that! ...e un'immagine Super VHS. Palmcorder S7 Panasonic. A voi la scelta. Tele Più consiglia la visione di questo film ai maggiori di 10 anni e vi ricorda che è possibile seguirlo anche in lingua originale.